E' scattato l'allarme nel tardo pomeriggio a Prato la Peligna per la presenza di un branco di cinghiali, almeno 18, quelli contati, che si aggiravano nelle vicinanze di Via degli Appennini, nei pressi del cimitero. Tutto era pronto per procedere con l'abbattimento selettivo, con le forze dell'ordine e la polizia provinciale che avevano adottato tutte le misure di sicurezza previste da protocollo, transennando anche l'arteria stradale, onde evitare pericoli per la pubblica incolumità. Alla fine però si è deciso di soprassedere, probabilmente anche per le condizioni di visibilità che sono cambiate col calar della sera. La strada è stata quindi riaperta, mentre nel quartiere si è creata allerta e preoccupazione per un fenomeno, quello della presenza di cinghiali, che si presenta sempre con insistenza. Domani quindi si deciderà se procedere o meno con l'abbattimento selettivo. Sul posto erano presenti anche alcuni amministratori comunali, con il sindaco Antonella Di Nino e un gruppo di passanti e residenti. A far scattare la segnalazione alle forze dell'ordine è stato un pratolano che si era accorto della massiccia presenza degli esemplari.